Massimo Cazzari mi ha scritto una lettera ieri sera, dicevo caro Presidente per le ragioni che conosci non potrò essere presente al vostro incontro, ha dovuto subire una piccola operazione, niente di grave, ma che lo ha costretto a non muoversi, insomma, quindi non a partecipare al Consolidato. Di questo dice Benedizia, c'è molto e scusami con tutti. Discutere con voi un momento così particolare per Venezia nel quale dopo oltre 50 anni, dal 1966, la città e la laguna dimostrano ancora di essere fragili ed esposte a un susseguirsi mai registrato prima di eventi eccezionali di marea, dell'opera dell'ingegner Niauzzi e della possibilità e capacità di intravedere e dall'ora in parte concretamente realizzare il netto ovviamente del contesto politico dell'epoca, un'idea di futuro per la città lagunare mi sarebbe piaciuto molto. Spero ci saranno altre occasioni per farlo, sperabilmente in momenti più tranquilli. Intanto auguro a tutti buon lavoro. Milano, 28 novembre 2019, Massimo Cazzari. Grazie.